La giornata del ricordo è uno dei momenti in cui il nostro paese ha il coraggio di affrontare l'oblio e per certi versi questo negazionismo che per lunghi anni è stata una vergogna nei confronti di chi ha lasciato le proprie terre, le proprie origini, cioè l'Istria, la Dalmazia e come esuli sono arrivati in Italia. Questi italiani che dal 43 al 47 e anche dopo hanno subito una vera e propria persecuzione fisica inizialmente e poi morale. La giornata del ricordo ci deve quindi far pensare e rimanere vigili a fronte di fatti che non possono essere semplicemente accantonati. Debbano essere visti, si deve avere il coraggio di ammettere che errori e che scempiaggini sono stati compiuti e alla fine proprio a fronte di questi errori essere vigili anche ai giorni nostri dove così i segnali di allarme verso ideologie di questo tipo, verso l'ideologia dell'odio non cessano, ci vengono dati ogni giorno e quindi soprattutto i nostri giovani devono far tesoro di quello che è accaduto per far fronte alle tentazioni che di giorno in giorno ci vengono proposte. Grazie.